Grazie, buongiorno a tutti, oggi abbiamo un saluto a tutti quelli che sono qui e a quelli che sono collegati tramite le tv e a coloro che sono collegati tramite i social. Oggi avete una novità, c'è la dottoressa Chiara Sipione che ci darà una mano a rendere più utili questi messaggi anche rispetto al mondo di coloro che non hanno la fortuna di udire. Ve lo dico perché abbiamo avuto un sacco di richieste e quindi mi scuso con tutti i cittadini che hanno difficoltà uditive, mi scuso ma non siamo riusciti a organizzarlo, adesso in questa fase emergenziale vedremo di fare in modo che tutti siano raggiunti dalle informazioni che diamo e quindi spero che almeno da oggi possa fare tirare un sospiro di sollievo a questi cittadini che saluto. Allora, vediamo subito i dati per non perdere tempo. I cittadini in isolamento in questo momento in Veneto sono 17.159. Di questi 17.159 cittadini che sono in isolamento, 6.442 sono positivi. Abbiamo in questo momento ricoverati nella struttura del Veneto, bollettini di questa mattina, 17.23 cittadini. Può dire che abbiamo sempre più due grandi ospedali provinciali dedicati a questi pazienti, sono 17.23 letti dedicati a questi pazienti che sono presenti nelle terapie intensive, nelle terapie subintensive e semi-intensive e in tutte le malattie infettive, fondamentalmente poi nelle degenze finali. Di questi 17.23 pazienti, 316 sono i pazienti presenti nelle terapie intensive. Qui siamo proprio a livelli massimi, estremi di intensità di cura e quindi stiamo parlando di pazienti problemati. Scusate, ma non succede semplicemente parlare? Scusate. Silenzio, per favore. Abbiamo ovviamente 316 pazienti che si trovano ovviamente ad essere intubati e per i quali ovviamente i nostri sanitari stanno lavorando giorno e notte per fare in modo di riportarli a una vita normale. I dimessi sono 439, quindi vedete che inizia a salire il numero di persone che escono e sono dimesse. Purtroppo il bollettino di guerra si chiude male con 258 persone, quindi 258 cittadini che hanno perso la vita. E questa è la parte più tragica di questa vicenda. Considerazioni. E considerazioni che faccio sono presto dette. Abbiamo la necessità di continuare a non abbassare la guardia. Io non credo alle letture dire mai che ci sono 10 in meno in terapia intensiva. Oggi ci sono 4 ricoveri in meno, un morto in meno. Guardate, quando è trend lo si vede giorno dopo giorno in maniera sempre più importante e vedrete che arriveremo un giorno nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi giornalmente. Quello è il punto dal quale non si torna più indietro. Noi siamo qui a lavorare in totale piena emergenza. I veneti che ci ascoltano dicono, sentiamo Zaia cosa da dirci oggi. Vi dico che siamo sul pezzo, vi dico di non abbassare la guardia, di avere fiducia. La sanità del Veneto funziona. È una sanità tutta pubblica con un aiuto da parte dei privati ma la gestione, vi ricordo, che al 95% delle terapie intensive è tutta del pubblico. Abbiamo messo in piedi una macchina da guerra favolosa e io spero che questa macchina da guerra dimostri fino in fondo ai veneti. Quello che io vi ho sempre detto, vedrete che quando ci sarà bisogno e il gioco si farà duro, ci renderemo conto di che sanità abbiamo. Il mio invito è ancora quello di rispettare le restrizioni. Oggi abbiamo un punto, una videoconferenza del trale pomeriggio con il governo rispetto al nuovo decreto. Immagino ci saranno ancora idee di nuove restrizioni, non ve lo so dire, adesso cercheremo di capire. Però restano valide quelle che abbiamo noi in Veneto, la chiusura dei punti vendita, a meno che non accada che si sconvolga tutto con un provvedimento nazionale, ma a tutt'oggi resta valido il tema della chiusura dei punti vendita e della domenica e ovviamente il tema delle passeggiate domenicali. Sto valutando, ma vi dico anche, ve lo dico non come, la stiamo valutando. Io ho messo il limite ai 200 metri e ci stai, lo confermo, da casa. Però sto anche valutando, ci sono delle casistiche, mi chiamano molti genitori che hanno figli autistici che hanno la necessità di far far tanta strada a questi ragazzi per tenerli in movimento e per garantire a loro una stabilità durante la giornata. Ecco, in alcuni casi potremmo prevedere magari con una subordinanza delle deroghe. E ovviamente la stiamo valutando e stiamo valutando anche come affrontare questa partita. Ho avuto qualche segnalazione per questo, ve lo dico. La prima cura al coronavirus siamo noi. Ce la ricorderemo tutta la vita, questa frase. Ma è vero che siamo noi. È vero perché io l'ho visto dal traffico come è diminuito, è vero perché ho visto i primi risultati del movimento dei contagi. È vero perché i nostri sanitari fanno un lavoro eccezionale, ma noi li dobbiamo aiutare. Su fronte dei respiratori vi dico che questa settimana se gli ordini che abbiamo fatto verranno confermati con gli arrivi, ieri sera sono arrivati 50 respiratori, oggi sembra altri 40, questo fine settimana noi siamo a regime con tutti i respiratori. Continuiamo ad acquistare con le difficoltà dei mercati, continuiamo ad allestire le terapie semi-intensive perché è stata una delle strategie del vento, quella di portare meno pazienti possibili in intensiva e cercare di curarli nella semi-intensiva che è meno invasiva, che è meno problematica, ovviamente creando non poche postazioni. Vi dico che il quadro ce l'abbiamo ben chiaro sotto gli occhi. Stiamo monitorando i modelli matematici che ci dico che siamo indietro di un paio di giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere oggi, rispetto a quello che accade oggi, il modello ci dice che dovrebbe essere accaduto due giorni fa e questo è un buon dato di lettura, ma non possiamo parlare di abbassare la guardia di fine dell'emergenza o di altre robe del genere. Restate a casa, tutti coloro che possono restare a casa perché non hanno impegni lavorativi, perché la loro azienda non rientra in quelle chiuse e perché comunque non hanno degli impegni indifferibili come andare a fare una visita ad un ospedale o altre robe, debbono restare a casa. Fidatevi che la cura è questa. Ai cittadini e ai tanti anziani che mi chiedono se hanno problemi, vadano dai loro sindaci, contattino il comune, non vadano. Cioè gli anziani, una preghiera è restare in casa, gli anziani devono restare a casa e se ci sono, a realtà è un volontariato che ringrazio tutti, che riescono a portare la spesa a casa agli anziani, meglio ancora. Meno contatti abbiamo tutti, giovani, vecchi, bambini o adulti o quello che è, più difficoltavola il virus a diffondersi. È un virus che fa danni, ci manda in terapia intensiva, è un virus che fa danni, ci fa venire le encefalite, quindi problemi cerebrali, è un virus che fa danni, ci fa venire le miocardite e quindi problemi cardiaci, è un virus che fa danni, ci fa venire l'insufficienza renale, perché poi questi sono gli esiti. Quindi c'è poco da scherzare. Qualcuno dice, ma Zaglia dovrebbe dire anche cose positive. Le cose positive ve le dico quando è ora di dirle le cose positive. In questa fase la cosa positiva che vi dico è la stare a casa. Continuiamo con gli acquisti di mascherine con questi 13 milioni e mezzo che stanno arrivando. Ormai tutti gli ospedali hanno la dotazione. Oggi ai direttori generali abbiamo detto di distribuirle anche alle case di riposo e ai centri di servizi. Ovviamente stiamo parlando di mascherine chirurgiche. Abbiamo qualche emergenza sul fronte dei calzari, piuttosto di qualche camice, ma insomma lì su quei fronti non siamo più nella situazione di qualche giorno fa o di qualche settimana fa. Diciamo che il mercato si sta un po' più aprendo. Abbiamo anche creato e messo in piedi un contatto serio, solido con anche un produttore locale che comunque 10 mila mascherine al giorno ce le dà e ce ne dà 60 mila, 70 mila a settimana che servono a corredo e quindi ci aiuta pian piano a aumentare i magazzini. Nei magazzini ne abbiamo e quindi per noi sul fronte mascherine chirurgiche l'emergenza si chiude qui. Sul fronte mascherine da terapia intensiva, sto parlando delle P2 e delle P3, l'emergenza si chiude tra questo fine settimana e l'inizio della prossima. Siamo riusciti ad acquistare un carico di 2 milioni di mascherine P3 che come aveva scoperto un giacimento con una pepita d'oro che non finisce più. Cioè è impensabile avere già questa settimana, ne dovremo avere 2-300 mila di anticipo e la prossima settimana a saldo il resto della fornitura. Abbiamo acquistato, anzi abbiamo acquistato 400 mila kit istantanei più altri 100 mila che ce li hanno donati e quindi ringrazio appunto anche per questa donazione che viene da Pesenti e quindi lo ringrazio per questa donazione e anche qui stiamo andando avanti e poi i tamponi, tutto quello che stiamo facendo sul fronte dei tamponi. Non vi voglio parlare dei tamponi oggi, vi voglio poi parlare di due aspetti, le donazioni, le donazioni stanno procedendo e quindi ringrazio a tutti i cittadini, vi porterò qui una mattina lo stampato del conto corrente per far vedere che movimento di popolo c'è rispetto alle donazioni. Siamo già oltre gli 8 milioni di euro ma abbondanti, neanche un paio di grosse che arriveranno, che stanno arrivando, una di quelle grosse mi arriva oggi e ve l'annuncio, il gruppo De Longhi versa 3 milioni di euro, 2 milioni direttamente al conto corrente della regione, l'altro milione sempre al conto corrente ma dedicato tramite l'associazione Mio Figlio, sempre comunque per il coronavirus, diciamo più dedicato alle spese sul coronavirus di Treviso, un milione, 2 milioni in generale. Questo è il gruppo De Longhi, ringrazio ovviamente il dottor Giuseppe De Longhi, il dottor Fabio De Longhi con i quali ci siamo sentiti più volte in questi giorni, quindi ringrazio perché questa donazione al gruppo De Longhi di 3 milioni di euro ci aiuta a far fronte alle tante spese che abbiamo. Ringrazio anche i tanti cittadini, uno ad uno che hanno versato i 5 euro, i 10 euro, i 50 euro, i 5 mila euro, i 1000 euro, i 10 mila euro, abbiamo tanti versamenti di 5 e 10 mila euro e poi quelli dei 50 mila e su e poi gli altri grossi versamenti che voglio ricordare non perché abbiano, come si può dire, più rango del sacrificio che fa male una persona che versa 5 euro, ma li voglio ricordare perché è un grande segnale che viene dall'imprenditoria Veneta ed è un grande elemento di emulazione, nel senso che gli altri imprenditori sanno che ci sono già dei colleghi che versano e io vedo che ogni volta quando si danno queste notizie i risultati vengono fuori, abbiamo avuto ovviamente la famiglia Zoppas, Enrico e Franco Zoppas con un milione di euro, abbiamo avuto la famiglia Doris e quindi Ennio Doris con 5 milioni di euro, abbiamo poi avuto il versamento di Moretti Polegato un altro milione di euro, di Enrico Moletti Polegato e ovviamente Mario Moletti Polegato per Geox e di Adoro un altro milione di euro e adesso il gruppo dei Loghi con questi 3 milioni di euro, ma posso garantirvi che ce ne sono altri in arrivo che già mi hanno comunicato del loro versamento e li ricorderò di volta in volta perché voglio dare un po' di onore a tutti in maniera personale e dedicata in ogni punto stando. Vedo un sacco di dibattito, permettetemi di dire anche a volte che nasce da una cattiva interpretazione, noi abbiamo detto che abbiamo fatto il censimento dei respiratori dei veterinari, dei 50 respiratori, non si tolgono i respiratori ai casi di emergenza, stiamo facendo un censimento per tutto quello che è l'utilizzo in elezione, come vuol dire? Esattamente che se fermo la sala operatoria di un ospedale, il respiratore del banco operatorio dell'ospedale verrà utilizzato per il coronavirus, il che non vuol dire che nessuno verrà più operato in Veneto, così vale per i veterinari, cioè i respiratori che servono per le urgenze veterinari ci sono? Stiamo parlando semplicemente di quello che consideriamo oggi arrestabile per dedicarlo a questi pazienti, non entro nel merito delle valutazioni, non entro nel merito anche di alcune espernazioni che ho visto che sono veramente volgari e qualificano le persone che fanno, però ripeto, è esattamente quello che stiamo facendo con gli ospedali, abbiamo ridotto l'attività chirurgica, delle sale operatorie non sono più utilizzate per sale operatorie perché ne abbiamo solo alcune dedicate ai pazienti critici e quindi in quelle sale operatorie, per chi ancora non l'avesse capito, mettiamo letti con respiratori che abbiamo comprato e agganciamo i pazienti ai respiratori che sono fissi al tavolo operatorio perché non possiamo permettersi di perdere neanche un respiratore. Lo stesso principio l'abbiamo adottato per i veterinari, ci sono i respiratori per le urgenze ma nel nostro censimento ci sono dei respiratori che sono lì, latenti, che vengono utilizzati magari per fare dei trattamenti, delle attività chirurgiche in elezione, cioè programmate, che si possono programmare e che so, l'operare il velo pendulo del bulldogger perché respiri meglio, è un intervento che lo si programma, lo puoi fare oggi, se il caso è grave va nella lista dei gradi, se no aspetterà che arrivi la sua ora per fare l'intervento chirurgico, ve lo dico per caso personale, chiaro? Quindi anch'io, anche col mio cane, tanto per dirla tutta, ho rimandato un intervento che dovevo fare un mese fa proprio per questo motivo. Quindi, prima di parlare, tasi, questo è il consiglio che do, è un vecchio adagio veneto, prima di parlare tasi, che vuol dire cosa? Prima di parlare magari informati bene e eviti anche di fare brutte figuracce. Di certo non posso accettare lezioni di etica e di morale da gente che non ha neanche capito di cosa si sta parlando. Per quanto riguarda poi in generale le belle notizie, ce n'è una, sapete che è stata approvata la valutazione VAS per l'ospedale di Padova, noi saremo pronti per la firma dell'accordo di programma tra aprile e giugno, tra aprile e maggio, adesso vedremo quando. Considerate che noi siamo concentrati qui con l'assessore Lanzarin, che saluto e ringrazio per l'eccezionale attività che sta facendo, e l'assessore Votacin per la trattata eccezionale attività sui due fronti, sanità e protezione civile. Ecco, noi siamo qui, viviamo qui, però è bene che io vi dica, e lo dico anche sempre a quelli che tifano perché tutte le cose vadano male, mettetevi il cuore in pace. Abbiamo sblocchiato anche l'ospedale nuovo di Padova, è arrivato alla VAS, firmeremo l'accordo di programma, siamo in linea, siccome si parla di sanità, permettetemi di dirlo, siamo in linea con il programma e andiamo a realizzare quello che dovrà essere il nuovo polichinico universitario in un contesto di sanità che quando ne saremmo venuti fuori da questa partita sarà una sanità sicuramente eccellente. Domande, prego. Mi basta così? Allora, Anna Maria, prego. Sì, allora scrive un telespettatore asintomatico e chiede, sulla base di quanto detto ieri da Franco Locatelli, riprendendo appunto i giornalisti a margine dell'assuntamento, che è portato dal Presidente, sul contributo degli asintomatici che dice che rispetto alla diffusione dell'epidemia è inferiore rispetto a quelli dei sintomatici, quindi di nuovo la questione della partita dei tamponi. Non ho capito. Allora, la questione della partita dei tamponi. Locatelli, ieri, ha detto che il contributo degli asintomatici alla diffusione del virus è inferiore rispetto a quello dei sintomatici. E quindi? E quindi, cioè, con la partita dei tamponi, stanno a capire i tamponi anche gli asintomatici? Scrive un telespettatore nel momento in cui... Non ho capito. Non ho capito in che contesto il Professor Locatelli ha detto questo, per cui è impossibile rispondere. Cioè, lo può aver detto in mille contesti, perché lo potrei dire anche io una frase così, ma la devo contestualizzare. Se mi dite che sia più interessante testare il sintomatico dell'assintomatico, lì nel principio vi dico sì, ma se vi dico che è interessante testare l'assintomatico, perché per la logica delle probabilità mi permette di beccare un contagiatore ignoto, vi dico che altrettanto è vero, perché è difficile. È difficile, Anna Maria, commentare una cosa del genere. Dico ai cittadini che comunque noi in questo momento abbiamo le difficoltà dei tamponi, ce li stiamo facendo in casa, perché non c'è più tamponi neanche reattivi di fatto. Prego. Sì, tutto santo, buongiorno Presidente. Ciao. Io avevo due domande. La prima riguarda questa impennata di docessi che oggettivamente fa paura. Ieri sono stati 27, mi pare, oggi abbiamo cominciato con 18, no? Sembra. Ecco, dobbiamo, questa cosa forse non deve sorprendere nel momento in cui si è detto più volte che il picco è atteso verso metà brida, quindi purtroppo se lo vado di qui a metà brida dobbiamo attenderci un'internata ulteriore in decensi. Era prevista, ecco. Era prevista, voglio dire, ve l'aspettavate nel senso... Assolutamente sì. Il modello è ancora più chiaro per i prossimi giorni. Quindi se il messaggio deve essere chiaro, nessuno deve dormire a soli tranquilli. Ma lo dico perché è giusto che ognuno di noi rispetti le regole. Il tema, io non mi metto la mascherina, ce l'ho tutto il giorno, ce l'ho qui, ma per un fatto anche, come si può dire, di cercare di essere al minimo comunicativo con i cittadini, è forse anche un messaggio di speranza. Però tutti devono avere le protezioni, le distanze di sicurezza, il gel. Se non hai il gel, usa l'alcol etilico, non muori se per un periodo avrai le mani rosse. Insomma, da bimbi abbiamo fatto tutte queste robe. E se vuoi disinfettare acqua e varacchina al 5%, ti fai una soluzione, una spruzzetta, spruzzi dappertutto. Insomma, ci sono un sacco di soluzioni. E facciamo in modo di fare un lavoro di squadra. E noi non siamo felici con 258 morti, anche se si chiudesse qui la partita. E' già una sconfitta questa. E' già una sconfitta perché chi lavora per salvare la vita dei cittadini non avrebbe mai pensato di aver fare un bollettino dei morti quotidiani. Per cui, per carità, a me non ne frega niente che saremo forse, chissà, quelli con meno morti, con minore impatto del virus. La verità è che qui il virus ha fatto danni. Perché quando tu hai 1700 persone in ospedale e 250 morti, cominci a dire che questa non era un'influenza. E quindi andate a chiederlo a chi ci diceva che era un'influenza. perché tutti noi abbiamo detto che i sintomi influenzali ci dicono, no? Quindi siamo preoccupati. Il modello ci dice che ci sarà una costanza di incremento di contagiati, di patologici e anche di mortalità. Stiamo facendo il diavolo a 4 per rinforzare ancora di più le prime fila che sono quelle delle terapie intensive e semi intensive. E questa è una sfida quotidiana. Prego, altra domanda, prego. Io ho una seconda però. Cioè? Dovamo volerla formularla. Prego. Proprio alla luce della sospensione delle attività differibili nei ospedali, mi segnalano, non so se questo corrisponde a verità, però l'hanno segnalato dei dirigenti medici. Insomma, ci sono anche reparti in cui forse dei medici in questo momento sarebbero disponibili a dare una mano. Reparti in cui le attività differibili sono sospese. Non si fa praticamente nulla. Lì forse c'è un serbatoio. Abbiamo il conto di questo. Ce l'abbiamo sotto occhio questa. Allora noi abbiamo mantenuto fino ad adesso le postazioni. Dopodiché se l'emergenza comincia a stringere abbiamo già anche un piano di trasferimenti. come lo abbiamo fatto per gli infermieri. E anche di formazione. Perché abbiamo anche piano di formazione. Perché se dovessimo, se la situazione dovesse precipitare e avessimo bisogno di intensivisti, sappiate che c'è anche un modello formativo per prendere un medico che non fa intensiva e gli guarda, mi sembra che siamo otto ore e mezza di training per portarlo ad essere un medico da intensiva, un medico fra virgolette da trincea, cioè non è intensivista, intensivista e un'altra roba. Però, insomma, vi ricordo che in Lombardia, leggevo, insomma, che sono quelli di opulistica che fanno intensiva. Sì, ma infatti la domanda era proprio finalizzata. Noi anche su questo siamo sul pezzo. Prego. Morena Poles, buongiorno. Ciao. E la necessità di una deroga per i genitori di figli autistici, penso anche alle altre famiglie con magari ragazzi fragili, piuttosto che anziani. Ci può dare qualche dettaglio? No, guarda, ci sto lavorando seriamente, perché ho visto il grido d'appello di alcune mamme e per cui penso che sia giusto adesso con i clinici capire, perché se il tema è che c'è una certificazione di una disabilità che ha bisogno di questo, per carità, io penso che si possa assolutamente venire incontro alle famiglie. di certo io passeggiate non ne voglio vedere, non voglio vedere scampagnate, biciclettate, corsette, altre robe del genere. Non si offenda a nessuno, qualcuno diceva, dai, è un dittatore. No, io faccio quello che deve fare un medico, dare i consigli per non ammalarsi, che è un'altra roba. Il medico una volta diceva, mi ricordo dal bimbo Davide al medico, diceva, stai dentro a casa e mangi in bianco. E tu non è che devi andare a casa a mangiare la pasta con ragù, ti veniva da piangere vedere la pasta in bianco, ma la mangiavi e non pensavi che fosse un dittatore, pensavi che fosse uno che si occupava della tua salute. Ma l'ha scritto un papà, una mamma? Mamma, mamma, mamma. E devo dire anche un'altra categoria che non cito, non la cito per prudenza, nel senso che sta facendo una verifica legale, seria, importante, per un problema importante. Per cui se ne vengo fuori, vi dico di dove si trattava, se no è chiusa lì. Rimanendo sul tema di persone che non stanno bene, che hanno bisogno magari di assistenza in particolare, ci sono sempre dei ricoverati, c'è riguardo a noi la richiesta, dei ricoverati a casa, magari dopo malattie di questo tipo importanti, che avrebbero bisogno di fisioterapie, perché altrimenti regrediscono. In questo caso dare la deroga a un fisioterapista che si muove, questa è derogabile e non ve l'ho neanche detta, perché abbiamo già fatto una certificazione noi per un disabile al 100%, che aveva bisogno della badante per essere allettato la sera e alzato al mattino, e per cui proprio in virtù di questo caso che abbiamo avuto la metteremo in questa deroga. Nel senso che tutto quello che sono pratiche di attività mediche o fisiatriche a domicilio, o di assistenza alla persona, giustamente la badante diceva io ci vado volentieri, ma se mi fermo per strada, soprattutto a luce delle pene pecuniarie, diventa un problema. Ok, comunque se ci state pensando, si avrà inserito il prossimo testo. Sì, sì, sì. Ti aggiungo anche di più che abbiamo fatto noi, in protezione civile, una dichiarazione che questa signora si porta dietro per andare a prestare il servizio. Due domande, un bello di G2. Ciao. Buongiorno. Una, è cominciata la sperimentazione sul farmaco giapponese, se sì, dove? E due, quando arriveranno questi kit e da dove si comincerà con questi kit rapidi? Allora, la prima, ancora no, perché stiamo aspettando il protocollo che penso arrivi a ore dell'AIFA e lo faremo a Padova, dove stiamo già sperimentando in azienda ospedaliera altri sei farmaci, tra i quali i tulici, insomma, l'intero motore, insomma, come si pronunci, ed altri farmaci. Per quanto riguarda i kit, non sono l'alternativa al tampone, ve lo ricordo, ma ricercano la risposta anticorpale nel sangue. Arrivano i primi 100.000, arrivano praticamente venerdì a Treviso, poi ne arrivano 10.000 ogni settimana e della donazione ne arrivano a blocchi da 10.000. I 100.000 che abbiamo comprati, i primi 100.000 dei comprati arrivano venerdì e poi arrivano tutti gli altri. Quindi, comprati 400.000, 100.000 donati. Verranno distribuiti per lo screening, ad esempio, tra gli ospedalieri. Stiamo facendo il tampone, ma questo ci aiuta a coadiuvare, quando sei davanti a un sintomatico, e dici, ma, forse già gli anticorpi, proviamo a vedere. Anche perché poi quelli che hanno gli anticorpi potrebbero diventare donatori per l'altra sperimentazione che dovrebbero essere a parlo? Sì, quella della sierologica e quindi tutto quello del tema del plasma è tutto un altro tema che abbiamo aperto che è stato autorizzato dal Comitato Bioetico regionale e quindi penso che anche lì siamo addirittura di partenza visto che abbiamo bisogno di autorizzazioni nazionali. Ecco, per quanto riguarda la vegana e quindi la sperimentazione che ti ho detto la faremo a Padova, è bene non illudere nessuno, però è altrettanto vero che se c'è un minimo di spiraglio non ci costa nulla fare una sperimentazione. Lo dico a tutti i fenomeni che adesso c'è. Noi siamo un paese di premi Nobel, tutti esperti di chimica, di biologia molecolare, di tutto. Io leggo di gente che poi vuoi guardare il profilo e ti domandi neanche come mai nessuno si sia accorto della loro esistenza. Cioè, che parlano di tutto. Allora, c'è chi dice che non c'è evidenza scientifica. Bene, se non c'è evidenza scientifica vuol dire che nessuno l'ha sperimentato. E allora lo sperimentiamo noi. Oppure, se dite che è un fiasco, che è un farmaco che non serve a niente, scrivetecelo e evitiamo di perdere il tempo. Allora, io penso che l'AIFA sia il nostro punto di riferimento. Ha autorizzato la sperimentazione. Non penso che l'AIFA autorizza le sperimentazioni semplicemente perché gira solitamente un uomo. Cioè, voi vi ricorda, fra l'altro c'era un farmaco che è divulgato da un altro video qualche giorno fa che coronavirus, fra l'altro si chiama, no? La famiglia di coronavirus è quella dell'influenza. Fatto da due italiani in aeroporto a Mosca che dimostravano che andavano a comprarlo. Ecco, l'AIFA non è che sia posto a provare di autorizzare la sperimentazione di quello perché sapeva già di cosa si trattava. L'AIFA, diciamocelo fino in fondo, ha un punto di domanda. Cercheremo di capire. Qualcuno dice, nel mondo scientifico, che può essere un farmaco preventivo. Qualcun altro dice che è teratogeno e dà problemi. Qualcun altro dice che è stato ritirato dal mercato. Parli qui, a Tokyo, io ho chiamato a Tokyo, ho amici a Tokyo, e dicono, no, noi lo usiamo comunemente. È quasi un farmaco da banco. Ti senti un po', eh? Adesso è il video di citare i prodotti farmacologici. Cioè, ti prendi questa roba. Quindi cerchiamo di capire qualcosa di più. È un reato? Penso proprio di no. Posso dare un po' di giornali? Un'ultima cosa? L'ultima, poi vediamo il giornale. Se facciamo l'ultimo libro, come sempre. Ecco, a proposito della videoconferenza con Ponte, di cui prima sai che ho informato, no? Ieri con PTV ha confermato che le regioni potranno, cioè possono, se lo credono, varare delle ordinanze più restrittive che sono integrative dei provvedimenti nazionali. Una tua valutazione su questo? Ma guarda... E anche se c'è, voglio dire, un orientamento da parte dell'Avecone... Devo ancora vedere il testo. Però il testo mi risulta dica che sono accettate ordinanze a tempo restrittive da parte della regione, concordate con il governo. Sì. Quindi di fatto è un'ordinanza che poi deve essere condivisa dal governo. Cerchiamo di capire bene quali saranno le ordinanze restrittive che vengono fuori dopo questo enesimo, ultimo giro di decretazione. Dopodiché capiremo, rispetto alle aziende, io sono convinto di una cosa, che il primo punto sia la messa in sicurezza dei lavoratori. Quindi mi fermo qui. Le aziende sono vitali per la nostra economia, altrettanto, e vale di più, la vita dei nostri lavoratori. Cerchiamo di capire anche quale sarà l'ezzetto dell'incontro dei sindacati con Conte che è in corso da quello del capitolo. Per cui, cioè, non è che sia un problema nazionale a livello locale. Penso che se il tavolo dei sindacati è lì con Conte, sono tutti gli strumenti per decidere. Perché è lo stesso tavolo che dieci giorni fa ha deciso le tredici misure per tenere aperte le aziende, vi ricordo. Perché adesso passa la memoria storica l'angue in questo Paese. Se rivendichiamo la chiusura di tutto, ricordo che quel tavolo ha deciso di tenere aperte le aziende spettando i tredici punti. per cui, io sono assolutamente a fianco ai lavoratori e anche alle imprese. Lasciateci vedere il resto del tavolo. Domanda che dovremmo scappare lì. Allora, giornali, cominciamo con Aldavanzandri Gazzettino che puntualizza ancora, forse meglio, la domanda di Filippo. Il Presidente quindi ritiene che il decreto legge annunciato ieri limiti le regioni nell'emanazione di ordinanze? Sostanzialmente no, perché anche prima comunque avevamo sempre i dpcm che volavano sopra la testa dei governatori. Noi potevamo fare delle ordinanze, diciamo, restrittive, ma fino a un certo punto prova ne sia che quella dell'ordinanza restrittiva sulle aziende non è stata fatta da nessuno, è stata fatta solo dal governo. C'è qualche primo risultato sull'uso dei sei o più farmaci che abbiamo messo? Sì, quello dell'artrite reumatoide sembra dia risultati positivi. Ma guardate, lo dico da un uomo della strada, perché è giusto che sia la comunità scientifica che apporti una relazione, che non venga fuori, che domani leggo titoli Zaia abbiamo provato la cura o menate del genere, perché c'è. Allora, mia rabbia. Benanzato, Asca News, quindi si sta procedendo ad effettuare tamponi su medici, infermieri e operatori sanitari? Sì, 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 assolutamente sì, ma è già in corso da un paio di giorni, due giorni. Nicoluzzi Morog, Corriere del Veneto, il contributo dei privati, Presidente, lei come lo giudica? Il contributo dei privati ospedalieri? Guardate, le terapie intensive e ospedaliere dei privati sono il 5% del totale. Sono 44 posti su 825 posti che noi abbiamo allestito. i privati fanno parte della squadra e ci danno una mano, sono disponibili, punto. Da qui trasformare il messaggio che la sanità pubblica è in mano ai privati, ne passa molto, non lo dico, non lo dico, non lo dico, non lo dico, non lo dico tutti quelli che hanno romanzato questa storia per mesi. Io oggi voglio rimarcare il fatto che la gestione pubblica di tutta questa tragedia al mento c'è. Due domande del direttore Domenico Basso. Peraltro i privati, tanto per dire, abbiamo fatto due ospedali Covid center, che sono Villa Salus e San Camillo, abbiamo chiesto ai privati svuota l'ospedale perché se abbiamo pazienti Covid te li mangia lì. Quindi i privati sono assolutamente collaborativi. Quindi dal momento che il decreto, dicendo il direttore Basso, da più potere alla regione, ha in mente qualche altro provvedimento. Al momento no. Si faranno tamponi nelle case di riposo e c'è molte sollecitazioni in questo senso. Poi il signor Lanzarevi dà un aggiornamento sulle case di riposo anche oggi. Io ho l'ultima domanda che è Guerretta, un secondo che la provo. A lei aveva anticipato un progetto veneto di riconversione delle aziende per produrre materiali sanitari, mascherine e quantità. Io ho detto che c'è un sacco di richieste, c'è un sacco di fermento imprenditoriale. Resto convinto che se non ci sarà un sostegno alla produzione, come si dice dal punto di vista tecnico, per questi imprenditori saranno tutte attività fallimentari perché il costo di produzione oggi in Europa, non in Veneto, è dichiaratamente superiore al costo di vendita degli stessi prodotti che hanno la produzione cinesi o asiatici. Io avrei terminato, se colleghiamo... Posso chiedere solo qualche curiosità, insomma, visto che la bella notizia dell'ospedale di Padova è arrivata alla VAS e successivamente quali saranno... Si firmerà l'accordo del programma, quindi in azienda ospedaliera e poi si parte. Il dottor Flor si è già attivato per sentire poi diversi interlocutori del mondo finanziario, sto parlando di BEI, di Cassa Deposito e Prestiti, di INAI, cercando a lui, abbiamo dato il mandato, di fare la verifica di quali siano queste realtà pubbliche che possono essere interessate a fare finanziare un'opera come questa, o meglio, vogliamo vedere il costo del denaro a quella più vantaggiosa. E penso che con una tragedia come questa si dovrebbe anche investire molto di più sulle nuove strutture e da qui al futuro fare grandi progetti di investimento sulle strutture ospedaliere. Credi che questa emergenza accelererà quindi questo processo? Io spero anche che acceleri anche la burocratizzazione, perché questo è un paese dell'ufficio di complicazioni e affari semplici. dovremmo uscirne capendo che non possiamo più intrezzare la vita con 3.000 fardelli agli amministratori e ai cittadini. Grazie. Prego. Ecco, Presidente, scusate, l'ultima domanda. La regione del Veneto Capopila, con il sindacato dei giornalisti del Veneto, in tutta Italia, ha tutela dei giornalisti sul fronte di questo movimento? Prego. Grazie. Bene. Non siamo sempre da parte dei giornalisti. E viceversa oppure no? Beh, sul viceversa avrei qualche dubbio. E basta, ragazzi. Però, Presidente, siccome ci chiederanno... No, no, no. Mi passo solo l'antarito. Sai perché? Siccome ci chiederanno naturalmente un focus su questo progresso importante del nuovo Policlinico a Padova... Sì, sì, per noi non è una sorpresa. No, no, però non è. Per noi non è. Però non è significativo. Ma vi abbiamo detto tutto quello che si doveva dire, cioè nel senso che è una vicenda che abbiamo seguito, è farina del nostro sacco, che nessuno si appenda al carro dicendo che ha fatto qualcosa, e nel senso che molti sono appesi al carro per fermarlo, non per portarlo avanti. Stiamo seguendo un cronoprogramma che flora ben chiaro, tanto è vero che vi ho detto anche un'informazione in più che oltre al tema della base e al fatto che si firmerà l'accordo di programma, peraltro devo dire onestamente io ho già la data fissata da mesi, ma ormai salta tutto rispetto a questa vicenda qua. Cioè avevo pensato è fissata per i 15 deboli che era firmato, ma comunque firmeremmo, cioè nel senso che... E vi dico anche che Floor ci ha dato affare anche con altri intervolutori pubblici per la proposta finanziaria, per vedere di spuntare i valori più bassi, dopodiché progettazione e dopo si parte a gare e via. Possiamo spiegare che magari, ultimo dettaglio, non tutti sanno cosa significa bassa? Beh, la valutazione è soggetta ambientale e strategica, cioè vuol dire che abbiamo messo il cuore in pace a tutti coloro che sono preoccupati dell'ambiente, cioè l'ospedale non deturba l'ambiente, non peggiora l'ambiente, mettiamola così. Allora stiamo parlando del politico universitario che ha la levatura e standing internazionale. Grazie, vi lascio l'assessore Lanzarini, poi c'è anche buon perci se avete bisogno. Grazie e ringraziamo anche Chiara che vedremo anche domani, giusto? Grazie. Allora, mi pare che il tema più importante con l'assessore Lanzarini sia quello delle case di riposo, poi aspettiamo le vostre domande e quelle via WhatsApp. Volevo chiedere che lettura dà l'assessore di questi ultimi dati e di questa impennata che è stata questa notte? Non c'è impressione, facendo la somma tra ieri sera e ieri sera? Ma come diceva il Presidente, per noi sono dati importanti che quindi ci devono dire di non abbassare assolutamente la guardia e quindi di mantenere tutte le misure che sono state già prese, di rafforzarle se necessarie, ma soprattutto di dare un messaggio ai validi di rimanere a casa. Questo è quello che mi sento di dire rispetto ai numeri che sono stati letti e citati dal Presidente. Per quanto riguarda la situazione rispetto alle strutture per anziani, noi stiamo facendo un monitoraggio pubblico, quindi sentiamo giornalmente tutte le strutture per capire com'è la situazione. Ci sono oggi diversi popolari in tutta la regione, nel Paduano, nel Tredigiano, nel Vicentino, qualcosa anche nel Bolognese e nel Bolognese, quindi diciamo che il virus è in grado in più strutture. La maggior parte dei pazienti sono all'interno delle strutture, perché sono gestibili all'interno delle strutture. Chiaramente invece i pazienti che si sono aggravati sono stati portati all'ospedale e quindi oggi sono in reparto ospedalieri. Se no, l'intenzione è quella di mantenere questi pazienti all'interno delle strutture, isolati dal resto dei decinti che ci sono in queste strutture, quindi creare dei modi isolati, i modi di farsi insomma che vengono gestiti poi all'interno delle strutture. Stiamo anche, abbiamo iniziato proprio dal fatto di conto, stamattina l'incontro di alcuni dei dottori generali, in cui abbiamo già dato indicazioni che negli approvvigionamenti che arriveranno quotidianamente di DPI, ci sono anche i DPI per le strutture per anziani, nello specifico le mascherine chirurgiche, ricordiamo già, e mascherine chirurgiche, e poi un po' di attenzione rispetto agli altri dispositivi, nelle strutture dove ci sono casi positivi e dove c'è una situazione più grave. Questo proprio per cercare di andare incontro alle istanze che ci arrivano nel territorio. Stiamo cercando anche, rispetto al personale, perché purtroppo è capitato che c'è molto personale positivo all'interno di alcune strutture, quindi alcune strutture stanno andando in affanno rispetto alla turistica, rispetto appunto all'assistenza delle proprie, abbiamo cercato e stiamo cercando di intrecciare quindi con le cooperazioni sociali, la disponibilità di anche il personale, ma stiamo anche ragionando sul personale che voi sapete oggi c'è, è a casa, che è quello del semi residenziale, dei centri diurni, perché avendo bloccato e chiuso i centri diurni fino al 3 aprile, oggi quel personale è a casa e quindi stiamo cercando di capire anche se questo personale può andare in supporto di quelle strutture che sono più in sofferenza. In alcune strutture è entrato anche il volontariato come la Croce Rossa. Le posso chiedere all'assessore dei test di 400 OS, appunto test telematici, un aggiornamento come sta andando? Sui tamponi? No, dei nuovi operatori sociosanitari, so che ci sono i test telematici. Certo, abbiamo anticipato chiaramente per mettere nuova l'infa, abbiamo fatto nuova possibilità di fare appunto gli esami telematici, quasi tutti, dobbiamo dire la verità, erano già accapparrati, nel senso le strutture li avevano già accapparrati un inizio dei corsi, quindi insomma non sono questi che risolvono il problema perché di fatto erano comunque personale che già le strutture aspettavano con ansia. Noi oggi abbiamo delle situazioni di emergenza dove stiamo cercando di intrecciare la domanda proprio anche con quelli che oggi sono a casa perché abbiamo bloccato i servizi esistenziali. Sui tamponi abbiamo iniziato, come abbiamo detto, sia con gli spisa, sia con il progetto Crisanti, insomma anche questi due progetti che avete capito, insomma, viaggiano insieme, insomma, è una mappatura complessiva alcuni ne vengono fatti dai nostri spisa, dai nostri SISP, scusate, gli uffici di prevenzione, altri invece con diversità di parlo alcuni del professor Crisanti, però insomma vogliono andare a perfetto rispetto a alcune categorie, abbiamo già iniziato con i tamponi all'interno delle strutture per anziani, sia per gli ospiti, sia per gli operatori. Io so, insomma, che ogni azienda si gestisce un po' in proprio, solitamente fanno, non so, un centinaio di tamponi al giorno sulle strutture per anziani, un centinaio per, un cento, duecento per i lavoratori della sanità, quindi la sanità degli ospedali, qualcosa, una cinquantina, un cento per i medici in generale e poi chiaramente tutto quello che concerne i contatti diretti, i contatti, appunto, lavorativi, del positivo, insomma, della ricerca, poi, appunto, dei cerchi, insomma, attorno alla persona positiva. Assessore, l'antelino, buongiorno. Senta, i telespettatori ci chiedono ancora una volta delle mascherine, se presenta. Quelle chirurgici, come quelle di grafica vendita, sono lavabili, utilizzabili, si possono disinfettare, che non gentilmente ancora. Le mascherine di grafica vendita, abbiamo sempre detto che non sono dispositivi medici, sono monouso, nel senso che, una volta, appunto, utilizzate, poi, sono mascherine che vengono buttate e nulla toglie, che uno, siccome devono servire per andare a fare la spesa, per andare in farmacina, insomma, per 3GP, per un utilizzo limitato, potrebbero un giorno intero. Però abbiamo detto che sono lavabili e meglio utilizzabili. Assessore, ecco, ti volevo chiarire che ieri Grafica Veneta ha reso noto sui propri social che, comunque, con una disinfezione, con un determinato prodotto, si può riutilizzare perché il tessuto diventa sterile. Quindi si possono disinfettare. La scritta Grafica Veneta è in un comunicato stato. Basta una soluzione con una decina. Grazie. Ho posto? No, avete dei dati sui decessi delle varie case di riposo, aggiornati? No, dobbiamo fare un'estrapolazione, però lo possiamo fare. Sicuramente posso dare un dato. Uno dei casi dei popolari principali, quello di Marlala, ha avuto al suo interno, mi sembra, 11 o 12 decessi, su una struttura che avrà 60-70 anni di gente, o c'è un popolare molto importante. Però in generale non ce l'ho, però quello possiamo fare. Assessore, a proposito dei decessi, torniamo a parlare per l'ultima volta su questa impegnata. Tu dicevi, purtroppo ce l'attendavamo perché il modello matematico c'ha da una resiguale. nonostante un decremento nei contagi e nei ricoveri, però evidentemente la situazione clinica dei pazienti sta portando un po' i novi affetti. Questa cosa c'era stata fatta a ballonare nei suoi discorsi. Non ti chiedo numeri, ma che cosa è realistico, ipotizzabile, attendersi sul fronte dei decessi nei prossimi giorni? Credo che non siamo in grado di fare nessuna proiezione. Il nostro modello era soprattutto l'utilizzazione rispetto all'utilizzazione delle terapie intensive. Quello era il dato che ci piaceva più preoccupare e che ci metteva in attenzione rispetto appunto anche alla preparazione dei nuovi posti e quindi dei nuovi posti di terapie intensive e subintensiva. Sui decessi, io credo che oggi non siamo in grado di fare nessuna proiezione, ripeto quello che ha detto il mio Presidente, per noi sono già tanti decessi e quindi sicuramente il messaggio che noi dobbiamo dare è quello che le misure vanno perseguite, le misure vanno sicuramente seguite e quindi non possiamo assolutamente abbassare la guardia. La collega Ranzano si mette sulla stessa linea del collega Robello, chiede quanti sono gli anziani contagiati nelle strutture, mi permetto Assessore a questo punto di chiederti se oggi possiamo rendere noto. Grazie a tutti, Assessore Bottaci, avete bisogno dell'Assessore Bottaci per la protezione civile? Io ho una domanda che non so, a quale dei due Assessori fare? Bottaci ti metti lì, casonali? No, qual è lo stato dell'arte dell'attivazione dei cinque ospedali no Covid da usare in caso di emergenza? Beh, questo è proprio la protezione civile. Gli ospedali sono pronti? Dai più vicino Assessore, per favore, se no non si sente bene, grazie. Gli ospedali sono pronti, già da fine settimana passata. Ho avviso il numero di posti letto, anche su un post, adesso non lo ricordo perfettamente, comunque siamo su quei 740 posti vecchi in più, sommando tutti i cinque gli ospedali. Sono pronti e sono a disposizione? 740, sono a disposizione, tre sono in provincia di Verona, uno in provincia di Treviso e uno in provincia di Palla. Sono a disposizione per la sanità, mi devono consegnarti, sono già presidiati dalla protezione civile e dalle squadre di soccorso, perché ovviamente a chiuderebbe in ospedale vuol dire anche garantire il presidio di sicurezza. Sono a disposizione, ovviamente noi abbiamo sempre detto che nel grande piano che incrementava di quasi 3.000 il numero di posti letto presenti rispetto a prima in Veneto, c'erano anche questi 740 posti letto in più che sarebbero stati attivati e utilizzati, qualora fosse la necessità, laddove ci fossero delle strutture ospedaliere diciamo così standard o già attive, che andassero in difficoltà. Al momento la sanità sta tenendo, ovviamente con tutto quello che è stato detto prima al Presidente, quindi non siamo ancora al picco massimo. Ma c'è un ordine di attivazione eventuale? Dipende da dove, dalla provincia, perché poi c'è uno scambio anche fra realtà, soprattutto nelle zone più vicine una all'altra, se c'è un paziente di Vittorio Veneto e Conigliano è già impegnato come terapia in teciva, viene portato a Belluno. Quindi c'è uno scambio anche fra una provincia e l'altra di pazienti, soprattutto nelle zone con termini. Dopodiché quando gli ospedali standard dovessero andare vicini al riempimento, poi si attivano anche queste strutture. Un po' alla volta, cioè si andrà a riempire... Dipende da dove si genera la situazione. Se andasse in crisi la situazione padovana, verrebbe attivato l'ex ospedale di Monsei, se andasse in crisi la situazione belunese a Tremigiana, l'ex ospedale di Valdoghiara e così via. Il personale è tutto disponibile? Perché ovviamente serviranno... Assolutamente sì, è stato pianificato dalla sanità anche la possibilità, a seconda delle tipologie di pazienti che dovessero andare a occupare quei reparti, quegli ospedali, ci sarebbe anche la migrazione di una staffa di sanitario, ovviamente. Allora, noi oggi abbiamo... Eh no, non si sente. Ad oggi sono vuoti, non è prima vuoto. Oggi il modello funziona, cioè il modello, insomma, il programma di piano strategico funziona. Ospedale Covid, sono stati attivati tutti, quindi sono stati attivati tutti gli ospedali in uno per ogni singola uso. Dopodiché stiamo facendo convergere i pazienti che sono, diciamo così, che possono già uscire dalle malattie infettive, però non è il caso di farli rientrare in casa. Stiamo facendo andare in strutture intermedie, negli ospedali di comunità, in ospedali di comunità che avevamo già pronti, che sono dislocati in tutta, quindi ci sono posti letto in 30, 20, ci sono posti letto, insomma, in giro per tutta la regione, in ogni singola uso, quindi stiamo riagendo anche gli ospedali di comunità con questi pazienti. Il tassello successivo è quello delle attivazioni, se ne ci sa, e poi degli altri ospedali. Per quanto riguarda invece il personale, è personale, è stato chiesto, come sapete che c'è stata un'iniziale richiesta del singolo Roosevelt di 525 nuove figure che noi abbiamo autorizzato ad assumere, in più c'è stato un bando di azienda zero, con i nuovi criteri, con le liste del decreto, che ha oggi, mi sembra, circa 780 persone che hanno risposto tra medici, infermieri, comparto, quindi operatori sociosanitari, e quindi è chiaro che le aziende sanitarie possono andare a prigere anche da quel bando, poi ci sarà necessità appunto di attivare anche individualmente, insomma, nuovi questi ospedali, o comunque di fare andare in questi ospedali del personale che è negli altri ospedali, dove ricordiamo che comunque è stata di fatto bloccata tutta l'attività. Cioè oggi c'è solo l'attività di emergenza-augenza, l'attività oncologica di un certo tipo, però se non sappiamo che tutta l'attività è stata bloccata, quindi è chiaro che ci può essere personale che è ripiegato e quindi si può spostare dove c'è necessità. Direi che possiamo concludere qua, grazie colleghi, ci vediamo domani. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.